Perchè hai gli occhi rossi? Papà mi son fumato una canta! Non dire stronzate! Stati piangendo! Ok ci serve un piano! Tipo questo! Un piano per il colpo! Tu attirerai l'attenzione! Mi travesto da cazzo! Ma che vuol dire? Tu hai mai visto un cazzo gigante aprire un mutuo? Si! Alla fine era un tizio pelato, da fatto mi sembrava una cappella! Prendo a calci una vecchia! Devi attirare l'attenzione e non farti arrestare! Entro in bestemmio! Ma che piano è? E' una pianola frate, una figata! Allora! Che faccia da cazzo che c'hai? Se Pierino ha 4 mele e ne mangia 9, quanto è lungo l'equatore? Professore ma che minchia di problema! C'è un grossissimo problema! Come quando in piazza Duomo hanno messo le palle! Comunque, dato che sei intelligente come una pietra, mo ne facciamo un altro! Eh va bene! Se Pierino ha 94 cioccolatini e ne mangia 90, che cos'ha? 4 cioccolatini! No! La pancia! E' pure il cagotto! Ma professore mi dia una mano! Sì! Allora, ricapitolando! Tu entri e dici? Uscite fuori con le madri in alto! Ma che cazzo uscite fuori minchioni ci servono gli ostaggi! I ostaggi cazzo è vero! E poi la faccia! Oddio che c'ha? La devi nascondere! E dove la metto? Facciamo il contrario, tu mi aspetti in macchina! Non ce l'abbiamo una macchina! Chiamiamo un taxi! Che cazzo ne so? Ma è geniale! E quando il gioco si fa duro? Non ti conosco e vaffanculo! Genio! Quindi lei mi sta dicendo che sono due mesi che non ci vede bene! Mamma che cazzo fai qua? Ti è cresciuta la barba! Non dica stronzate Fumagalli, metta questi! Ora mi dica esattamente che cosa vede! Un coglione con un cartello! Deve leggerlo! Due palle! Due tette! È un tre! Non è che sono scaduti! Credo proprio che lei sia diventato miope! Sono sempre stato Fumagalli! Nel senso che non vede più un cazzo da due mesi! E meno male! Non mi piacciono i cazzi! Lei non capisce niente! Non ho capito! Vede! Le ho detto di no! Che cos'hai sui baffi? Papà ha pippato! Non dire stronzate! Quello è zucchero a velo! Ciccioli! Hai fatto i compiti! Sì papà! I compiti si copiano! Lo sai che chi fa da sé prende tre! Ma che cazzo di proverbio è? Chiama tua madre! Madre! Papà è morta! Ah è vero maledette sigaretta! L'hai investita con la macchina! È stato un incidente! Volevi fare le views su Facebook! Non ti preoccupare tesoro l'ho vista su Fast & Furioso! Intanto ho preso venti live! Pure vent'anni però! Sei proprio un figlio di merda! Dovevo andare al cinema quella sera! Tesoro una birra! Papà! Allora! Allora!